Buongiorno, sono Martina Tarantola, sono una veterinaria, una ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Veterinari. Venerdì sera staremo anche noi presso il Museo del Risorgimento per la Notte dei Ricercatori. Ci troverete quindi lì, io insieme ad altri colleghi, per giocare, giocare con una sorta di gioco con le carte, come si possono dire tarocchi, che vanno a rappresentare tutte le tematiche di cui si occupano i veterinari, perché il veterinario che viene sempre solo visto come quello che cura gli animali d'affezione, in realtà le tematiche sono tantissime e quindi grazie a questo gioco approfondiremo un po' tutti questi aspetti, il ruolo molto importante che ha il veterinario nella società, come ad esempio il problema della sicurezza alimentare, tutti i prodotti di origine animale vengono gestiti, monitorati dai veterinari e anche tanti altri aspetti, come ad esempio il problema delle alcune patologie che passano dall'uomo all'animale, perché si sa che l'uomo ha un contatto con l'animale da sempre, quindi beneficio di questo, ma ci possono essere anche dei potenziali rischi di questo senso o argomenti più scottanti, come ad esempio il problema della farmacosorveglianza in questo senso. Quindi attraverso una lettura di queste carte faremo delle domande, quindi una sorta proprio di esame, sia dal punto di vista più teorico, ma anche pratico, ovviamente in forma molto giocosa, proprio per riuscire a fare un po' comprendere qual è il nostro ruolo nella società e chissà magari riuscire anche solo per una notte a laurearvi veterinari per una notte. Quindi vi aspettiamo al Museo del Risorgimento venerdì sera.